Capitolo ventunesimo. In questo capitolo, Emadpa racconta le storie di Vinaya Kerish Chandra Takur. Ba. Anantrao Patankar di Puna e un difensore di Pandarpur. Tutte queste storie sono molto interessanti e. Se lette. E comprese con molta attenzione. Condurranno i lettori sul sentiero spirituale. Preliminare. Una regola generale che è la nostra buona fortuna sotto forma di accumulo di meriti delle nascite. Passate. Che ci consente di cercare la compagnia dei santi e trarne beneficio. Per illustrare questa regola. Emma Pan fornisce il proprio esempio. È stato per molti anni magistrato residente a Bandra. Un sobborgo di Mumbai. Un famoso santo maomettano. Chiamato Pir Mulana. Viveva lì molti hindù. Parsi e molti altri. Che seguivano religioni diverse. Andavano da lui e prendevano il suo darshan. Il suo muyavar. Sacerdote. Di nome Yunus. Insistette molte volte su Emadpa perché andasse a trovarlo. Ma per un motivo o per l'altro non riuscì a vederlo. Dopo molti anni arrivò il suo turno e fu chiamato a Shirdi. Dove fu iscritto permanentemente al Darbar di Sai Baba. Gli sfortunati non hanno questo contatto con i santi. Solo i fortunati riescono ad ottenerlo. Istituzione dei santi. Ci sono state istituzioni di santi in questo mondo. Da tempo immemorabile. Vari santi appaiono. Si incarnano. In vari luoghi per svolgere le missioni loro assegnate. Ma sebbene operino in luoghi diversi. Sono come se fossero uno solo. Lavorano all'unisono sotto la comune autorità del Signore Onnipotente e sanno benissimo cosa fa. Ciascuno al suo posto e integrano il suo lavoro dove necessario. Di seguito è riportato un esempio che illustra ciò. Signor Takur. Il signor V.H. Takur. Ba. Era un impiegato del Dipartimento delle Entrate. E una volta arrivò in una città. Chiamata Vadgaon. Vicino a Belgaon. Paese del sud di Maisor. Insieme a un gruppo di esploratori. Livaid un santo canarese. Appa. E si inchinò davanti a lui. Il santo stava spiegando al pubblico una parte del libro. Vishar Sagar. Di Nishaldas. Un opera standard sul Vedanta. Quando Takur stava per congedarsi. Gli disse. Dovresti studiare questo libro e se lo farai. I tuoi desideri saranno soddisfatti e quando andrai al nord nell'adempimento dei tuoi doveri in. Futuro. Incontrerai un grande santo per la tua fortuna. E poi ti mostrerà la via futura e darà riposo alla tua mente e ti renderà felice. Poi è stato trasferito a Yunnar. Dove doveva andare attraversando Nengat. Questo Gat era molto ripido e difficile. E nessun altro mezzo di trasporto. Tranne un bufalo. Era utile per attraversarlo. Quindi dovette fare un giro sui bufali attraverso il Gat. Il che fu molto scomodo per lui. Da lì è stato trasferito con la promozione a Kalian e lì ha conosciuto Nana Saeb Shandorkar. Aveva sentito parlare molto di Sai Baba da lui e desiderava vederlo. Il giorno dopo. Nana Saeb dovette andare a Shirdi e chiese a Takur di accompagnarlo. Non poteva farlo. Poiché doveva presentarsi al tribunale civile di Tana per una causa civile. Quindi Nana Saeb se ne andò da solo. Takur è andato a Tana. Ma lì il caso è stato rinviato. Poi si pentì di non aver accompagnato Nana Saeb. Tuttavia partì. Per Shirdi e quando arrivò lì. Scoprish Nana Saeb aveva lasciato il posto il giorno precedente. Alcuni degli altri suoi amici. Che incontrò lì. Lo portarono da. Baba. Vide Baba. Cadde ai suoi piedi ed era felicissimo. I suoi occhi erano pieni di lacrime e i suoi capelli erano ritti. Poi. Dopo un po'. L'onnisciente Baba gli disse. Il percorso di questo luogo non è così facile come gli insegnamenti del santo canarese Appa. O anche come la cavalcata dei bufali nel Nengat. In questo percorso spirituale bisogna impegnarsi al massimo. È molto difficile. Quando Takur udì queste parole significative. Che solo lui conosceva. Fu sopraffatto dalla gioia. Venne a sapere che la parola del santo canarese si era avverata. Poi unendo entrambe le mani e ponendo la testa sui piedi di Baba. Pregò affinché fosse accettato e benedetto. Poi Baba disse. Ciò sciappa vi ha detto andava bene. Ma queste cose devono essere praticate e vissute. La semplice lettura non basterà. Devi pensare e realizzare quello che leggi. Altrimenti non serve a niente. Il semplice apprendimento dai libri. Senza la grazia del guru e l'autorealizzazione. Non è di alcuna utilità. La parte teorica è stata letta dall'opera. Vishar Sagar. Di Takur. Ma la via pratica gli è stata mostrata a Shirdi. Un'altra storia riportata di seguito. 1-1-2-Shera Isai S-A-T-C-H-A-R-I-T-A. Farà emergere questa verità con più forza. Anantrao Patankar. Un signore di Puna. Di nome Anantrao Patankar. Desiderava vedere Baba. Arrivò a Shirdi e prese il Darshan di Baba. I suoi occhi erano soddisfatti ed era molto contento. Cadde ai piedi di Baba e dopo aver compiuto la giusta adorazione disse a Baba. Ho letto molto. Studiato Veda. Vedanti e appenishad e ascoltato tutti i Purana. Ma tuttavia non ho alcuna pace mentale. Quindi penso che tutte le mie letture era inutile. I semplici devoti ignoranti sono migliori di me. A meno che la mente non diventi calma. L'apprendimento dei libri non è di alcuna utilità. Ho sentito da molte persone che dai facilmente la pace della mente a così tante persone con il tuo semplice sguardo e la tua parola potente. Quindi sono venuto qui. Per favore. Abbi pietà di me e benedicimi. Allora Baba gli raccontò una parabola che era la seguente. Parabola delle nove palle di sgabello. Nava vi dà bakti. Una volta venne qui un mercante. Davanti a lui una cavalla e metteva le sue feci. Nove palline di feci. Il mercante. Intento nella sua ricerca. Allargò le estremità del suo dotar e raccolse in esso tutte le nove palline. Ottenendo così la concentrazione. Pace. della mente. Il signor Patankar non riusciva a capire il significato di questa storia. Quindi chiese a Ganesh Damodar alias Dada Kelkar. Cosa intende Baba con questo? Egli rispose. Anch'io non so tutto ciò che Baba dice e intende. Ma su sua ispirazione dico ciò che vengo a sapere. La cavalla e la grazia di Dio e le nove palline escrete sono le nove forme o tipi di bakti. Vale a dire. Shravan. Udito. Due. Kirtan. Preghiera. Tre. Smaran. Ricordando. Quattro. Padasevan. Ricorrere ai piedi. 5. Archan. Culto. 6. Namaskar. Inchino. 7. Dasia. Servizio. 8. Sakyam. Amicizia. 9. Atmanivedan. Abbandono di sé. Questi sono i nove tipi di bakti. Se qualcuno di questi viene seguito fedelmente. Il signore Ari sarà soddisfatto e si manifesterà nella casa del devoto. Tutte le sadhana. Vale a dire. Giapa. Adorazione vocale. Tapa. Penitenza. Pratica dello yoga e studio delle scritture ed esposizione sono del tutto inutili. A meno che non siano accompagnati da bakti. Cioè devozione. La conoscenza dei veda o la fama di grande dnyani e il semplice bhajan. Adorazione. Formale non sono di alcuna utilità. Ciò che si vuole è la piena devozione. Considera te stesso come il commerciante o il cercatore della verità e sii ansioso e desideroso. Come lui di raccogliere o coltivare i nove. Tipi di devozione. Allora otterrai stabilità e tranquillità. Il giorno successivo. Quando Patankar andò da Baba per il saluto. Gli fu chiesto se avesse raccolto le. Nove palline di feci. Poi disse che essendo un povero ragazzo. Avrebbe dovuto prima ricevere la grazia di Baba e lui sarebbe stato in grado di raccoglierli. Allora Baba lo benedisse e lo consolò. Dicendo che avrebbe ottenuto pace e benessere. Dopo aver sentito questo. Patankar divenne felicissimo e felice. Il difensore di Pandarpur. Chiuderemo questo capitolo con una breve storia che mostra l'onniscienza di Baba e il suo utilizzo. Per correggere le persone e metterle sulla retta via. Una volta un supplicatore di Pandarpur venne a Shirdi. Andò al Masjid. Vide Sai Baba. Cadde ai suoi piedi e senza che gli fosse chiesto offrì un po' di Dakshina e si sedette in un angolo. Ansioso di ascoltare il discorso che stava accadendo. Allora Baba voltò il viso verso di lui e disse. Quanto sono astute le persone. Cadono ai piedi. Offrono Dakshina. Ma maltrattano dietro di me. Non è sorprendente? Questo berretto. Dardo. Osservazione. Andava bene al difensore e doveva indossarlo. Prenderlo. Nessuno capì le osservazione. L'avvocato lo colse ma rimase in silenzio. Quando tornarono al Wada. Il difensore disse a Kakasaeb Dixit. Ciosh Baba ha osservato era perfettamente giusto. Il dardo. Osservazione. Era rivolto a me. Era un suggerimento per me. Che non dovevo indulgere ad ingiuriare o scandalizzare gli altri. Insultare nomi. Quando il vice giudice o munisiffo di Pandarpur. Il signor Nulkar. Venne e rimase qui per migliorare la sua salute. Nel bar di Pandarpur era in corso una discussione su questo argomento. Fu detto o discusso lì. Se i disturbi di cui soffriva il vice giudice fossero mai stati in grado di essere eliminati senza. Medicine. Semplicemente andando dietro a Sai Baba. E se fosse appropriato per un uomo istruito come il sotto giudice ricorrere a tali metodi. Il vice giudice è stato rimproverato. Cioè è stato criticato. Come anche Sai Baba. Anch'io ho preso parte a questa vicenda e ora Sai Baba ha mostrato la scorrettezza della mia condotta. Questo non è un rimprovero per me. Ma un favore. Una lezione. Affinché non dovrei indulgere in nessuno scandalo o calunniare gli altri e non interferire. Inutilmente negli affari degli altri. 1-1-4-S-R-I-S-A-T-C-H-A-R-I-T-A. Tuttavia Baba. Grazie alla sua onniscienza. Sapeva cosa accadeva nella sala del bar. I luoghi intermedi fiumi. Giungle e montagne non erano un ostacolo alla sua vista onnisciente ed egli poteva vedere o leggere i cuori di tutti. E non c'era nulla di segreto o velato in lui. Tutto. Lontano o vicino. Gli era aperto e chiaro. Ampio come la luce del giorno. Che un uomo sia lontano o vicino. Non può evitare lo sguardo onnipervadente di Sai Baba. Da questo incidente. Il difensore ha imparato la lezione che non si dovrebbe mai parlare male degli altri o criticare. Inutilmente. Pertanto. La sua tendenza malvagia fu completamente eliminata e fu indirizzato sulla retta via. Sebbene la storia si riferisca a un difensore. È comunque applicabile a tutti. Tutto dovremmo prendere a cuore questa lezione e trarne beneficio. La grandezza di Sai Baba è insondabile. Così come lo sono le sue meravigliose lila. Anche la sua vita è tale. Poiché egli è il Parabrama. Dio Onnipotente. Incarnato. Inchinatevi a Shorai Sai. La pace sia con tutti. Shirdi dista circa 50 cos. Cos. Cos uguale 3 miglia uguale 4,8 chilometri. Da Pandarp.